Twitter è morto. Evviva Twitter! Magari se navigate online potreste vedere un post e sentir dire queste cose. Ma cosa sta succedendo alla popolare app di microblogging? Beh, vediamoli insieme. Come sapete, tempo fa Elon Musk ha acquistato, non senza polemiche, Twitter. Salvo poi scoprire che c'era un buco senza fine nelle finanze. A quel punto ha cominciato a fare tagli e a pensare che ormai quella piattaforma, per quanto riguarda la società e non per gli utenti, avesse bisogno di un bel cambio di passo. E beh, si sa, ad ogni acquisizione ci sono grossi scossoni, ma nessuno si sarebbe aspettato questo cambio di mentalità. Musk ci ha fatto capire che questa piattaforma in futuro non avrà solo un nome differente, e vabbè, ve ne sarete accorti, ce l'ha già un nome differente, ma sarà completamente differente anche per le funzioni che saranno introdotte. In questi giorni abbiamo iniziato a vedere il logo e il nome nuovo, ma ci sono novità che sicuramente bollono in pentola. Infatti Twitter sta testando una nuova interfaccia per Android chiamata Twitter X. È ancora in fase di sviluppo, ma offre una serie di nuove funzionalità rispetto alla versione standard dell'app. Beh, per prima cosa l'avrete capito. Troviamo il logo nuovo e il nome X, perché la società si chiama X Corp. Poi, momento lacrimuccia, i tweet probabilmente si chiameranno post. Adesso invece passo a quello che in molti pensano diventerà. Oltre a poterci scrivere appunto dei post e avere info varie, molto probabilmente potremo usare metodi di pagamento per transizioni, magari con Paypal, e prenotare servizi per trasporti o food delivery. In pratica diventerà un'app a tutto fare, un po' come WeChat. Non so se la conoscete. Come dicevo qualche istante fa, Twitter X, o probabilmente poi si chiamerà X e basta, è ancora in fase di sviluppo. La versione di Android 10.1.0, che è la versione di test nel momento in cui sto registrando questo podcast, è al momento disponibile solo per gli iscritti al programma beta, quindi se non lo siete non la potete provare. Ma a breve sicuramente aspettiamoci grosse news. E poi arriviamo un po' all'analisi di quello che il web dice appunto di Twitter. In molti si lamentano che questa piattaforma verrà stravolta, ma dobbiamo anche pensare che una società sta in piedi se ha ricavi, e che con tutto il romanticismo che alberga in noi, se non fattori e non guadagni, poi fallisce. Probabilmente il metodo alquanto spesso folle di fare le cose di Musk, a molti fa paura, non piace, ma vorrei far notare a tutti quante aziende ha creato e quanto è stato in grado di innovare fino ad ora. Certo, non è infallibile, ma probabilmente su alcune idee non abbiamo la visione di insieme che è lui e il suo staff, quindi pazientiamo e vediamo cosa ci riserverà il futuro. D'altronde, se leggessimo il futuro, cosa staremmo qui a lamentarci?